L'essere tentato E' segno che l'anima Ebbene accetta il Signore Buongiorno compadre Pio E buongiorno care sorelle e cari fratelli A tutti voi che mi state ascoltando In questo meraviglioso mese di gennaio Oggi abbiamo sentito Ora un pensiero brevissimo Ma molto profondo e intenso Di Padre Pio Che ci aiuta a capire Che cos'è la tentazione e l'innocenza Padre Pio è chiarissimo In quello che abbiamo sentito Una persona che si dica cristiana O un cristiano Non può essere esente o immune Dalla tentazione Potrebbe sembrare paradossale Ma è proprio così Vorrei dichiararlo per converso Se una persona Forse anche battezzata Continuasse a vivere Sempre nella tarassia Nell'epoche In greco significa Una specie di Nebulosa In cui non sa neanche Se è sul mondo o sulla terra In quello che purtroppo Continuano a portarci Questi dispositivi elettronici Come i telefoni cellulari A non pensare a nulla Se non ad alcunché Ecco Per paradosso Quell'anime invece Che è tentata È benedetta da Dio Perché? Se Padre Pio Arriva a fare questa affermazione Che è piuttosto impegnativa Io sono convintissimo Che può farla A diritto E per esperienza Proprio perché Su se stesso È si dice Una affermazione Autoriflessiva Aveva provato Sulla pelle E nell'anima Che cosa significhi Essere tentato Cioè Significa Essere continuamente Compartecipe Assimilato Sintonizzato Con Gesù Cristo Vero Dio E vero uomo Che in quanto uomo Veniva continuamente Tentato Dal diaballei Da colui che si pone In diagonale Appunto dal maligno A non compiere La volontà del padre Questa è la tentazione La tentazione principale Per cui Chi mi sta ascoltando E ne sono convinto Perché anche chi mi sta parlando Non è esente O immune da questo Percepisse In qualsiasi momento Della giornata Della notte Di essere tentato Oppure Di essere tentato Proprio quando deve Prendere una grande decisione Magari a favore del Vangelo Sappia che quella È la prova Certificante La tentazione La tentazione Che c'è anche Dio Che aiuta a superarla Ma che chiama Perché Essere tentato È sempre essere anche provocato A scegliere Ma c'è un secondo dettaglio Al quale ci tengo tantissimo È l'innocenza Dei bambini Alla quale qui Padre Pio Si richiama indirettamente Non dimentichiamoci mai Che padre Pio Era un grande devoto Di Gesù Bambino Non dimentichiamoci mai Che padre Pio Confessava anche Molti bambini E non dimentichiamoci mai Che padre Pio Aveva sentito Questo lo si legge In altre parti Dell'epistolario Quanto L'innocenza Per bambini Intendo L'innocenza In sé Per sé Intendo anche Le piccole creature I fanciulli Ovvio Pure loro Sono tentati Intendo dire Se mi permettete Come teologo Che l'innocenza È direttamente Proporzionale Alla tentazione Più tu sei innocente Diciamolo pure Tu più sei Casto Vergine Povero Obediente Più tu sei tentato Come i bambini Che sono Angeliche creature Ma proprio per questo Tu sei anche Più protetto Noi abbiamo Come un piccolo Gesù bambino Che è sempre Dentro di noi Sappi che Più tu lo mantieni Innocente Tu più sarai tentato Ma proprio perché Sarai tentato Sarai Sostenuto Dal grande condottiero Che è Gesù Cristo E che non permetterà mai Che la tentazione A cui sei subito Possa superare La tua possibilità Di sopportarla E di vincerla Vim ARTHONE Che èikerà Vim ARTHONE Grazie a tutti.